Siamo con il dottor Giuseppe Di Vittorio, economista e giornalista economico. Una sfida, quella di BCC, che vuole legarsi al territorio perché ovviamente percorrere, seguire un percorso etico legato all'ambiente, legato alle problematiche sociali, crea ovviamente un rapporto profondo, intimo con il territorio. Sì, sicuramente la BCC poi è favorita, nel senso che come statuto avere una BCC che non è sociale o non è socialmente responsabile sarebbe quasi un ossimero, quindi io spero che nei loro bilanci, io l'ho letto, ci sono tanti punti e spunti che portano alla sostenibilità. Certo non bisogna scappare dal problema, cioè parlare di sostenibilità a Taranto sembra quasi una sfida epocale, tenendo conto che la sostenibilità nelle altre parti del paese o del mondo sono andati molto più avanti. Sostenibilità non vuol dire solo rispetto dell'ambiente, ma vuol dire rispettare anche i dipendenti, trattarli in un certo modo, garantire un welfare, vuol dire una remunerazione dei manager non troppo disaliniata da quella delle altre fasce, delle altre attività produttive, vuol dire i fornitori pagarli puntualmente, quindi vuol dire essere socialmente responsabili, la denominazione esatta SG, quindi ambiente sociale e governance, quindi tre cose, quindi un significato molto più ampio e una moda, va detto. Se vuoi la mia esperienza ti posso dire che convivono delle cose che sono sostenibili con delle cose anche che sono palesemente insostenibili nel mondo, si ha sempre la sensazione che da un momento all'altro le cose insostenibili possono scoppiare, in realtà come spesso diciamo così l'esperienza di Taranto racconta, poi alla fine le cose insostenibili tendono a non scoppiare.